La sconfitta è difficile, dopo la sconfitta di domenica vogliamo avere una reazione forte, ce l'abbiamo avuta comunque in settimana, allenandoci molto duramente e molto bene, per cui vogliamo essere pronti a questa sfida che arriva tra i due giorni. È stata una stagione alla fine dei conti positiva perché siamo andati a playoff quell'anno, però durante tutto l'anno è stato molto alti e bassi, vinto, vinto, ho perso, vinto, ho perso, poi playoff, nel primo turno abbiamo trovato Varese, finta praticamente subito lì. L'allenatore di allora non c'è più, però c'è l'assistente, è rimasto lo stesso, ho buonissimi ricordi, buonissime relazioni appunto poi particolarmente anche con l'assistente che c'era, dal punto di vista nostro comunque di Varese adesso siamo pronti per andare lì per giocarci alle vincere. battle, Sunday at 7 o'clock. No, I think it will be fun to play… Ci sono stati un po' di incroci con Charlie perché mi ha allenato qui, poi quando ho giocato a Venezia lui allenava, io ho giocato contro, allenava Montegranaro, adesso sono di nuovo con Varese e lui allena Venezia. Comunque ho grandissimo rispetto per lui sia come persona che come allenatore, penso che sia uno dei migliori. In circolazione, posso dire soltanto bene di lui, lui mi ha anche aiutato molto nell'anno in cui ero qua dal punto di vista tecnico e dattico, ho imparato molto. Do you try to win the game on Sunday? Ah, per me è uguale. Personalmente il fatto di giocare di più, giocare di meno, anche dal punto di vista fisico non mi cambia molto. Tornerà Craig, Craig è pronto, appunto Craig è pronto. tutti i compagni sono pronti a darci una mano per entrare in campo domenica, anche perché appunto molto probabilmente mancherà Christian, che è un ottimo giocatore, però non dobbiamo pensare a quelli che mancano, ma soltanto noi che ci siamo a dare il 110%. È stato più, è chiaro, alla fine della partita ci siamo sentiti più come se avessimo, eravamo arrabbiati, più come se avessimo fatto un regalo a Reggio per portare a casa la partita, però ok, la rabbia c'è tutto, c'è stata, adesso però dobbiamo incanalarla e pensare soltanto la partita di sabato scorso è finita, adesso pensiamo soltanto alla prossima e andiamo lì pronti a portare a casa un'altra vittoria. Ci sentiamo molto uniti nel discorso appunto di gruppo, di squadra, ribadiamo il concetto che non è mai colpa di uno quando si perde oppure merito di uno quando si vince, è tutto un concorso di cose che succedono, è la squadra che si prende eventualmente i meriti oppure eventualmente i meriti di quello che succede. Non dobbiamo pensare individualmente, singolarmente, non dobbiamo pensare appunto come gruppo, che è l'unica maniera veramente per ottenere dei risultati buoni, importanti. Poi se vai in campo dai il 110% e gli avversari sono più forti e comunque tu hai dato il massimo, la cosa l'accetti tranquillamente. A presto!